Grazie a tutti. Ogni notte nel sonno vengono a trovarmi degli elfi e mi lasciano dei piccoli bigliettini. Al mio risveglio, la mattina dopo, li leggo e me ne prendo più i meriti. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. I love animation now. la politica, la società sociale e i film realisti, credo.